Laura Pausini e Ramazzotti stasera in tv, collaborazione in vista? Eros Ramazzotti ospite stasera da Laura Pausini. Stasera andrà in onda la terza puntata in replica dello show Laura e Paola su Rai 1 alle 21.20 subito dopo Teche Teche. Alla conduzione ci saranno Laura Pausini e Paola Cortellesi. Tanti gli ospiti per il finale dello show del sabato sera, tra i quali Beppe Fiorello, Stefano Accorsi, Biagio Antonacci, Arisa, Elio e le storie tese e, Dulcis in fundo, Eros Ramazzotti. E proprio con quest'ultimo Laura Pausini farà un bellissimo duetto cantando le più belle canzoni di Mina e di Luce Battisti. Ma non è finita qua perché la Pausini, proprio in questo periodo, è anche al lavoro sul suo nuovo album, che potrebbe vedere la luce molto presto. Difatti, giusto qualche giorno fa, direttamente sul suo profilo Instagram ha pubblicato un selfie, e nella didascalia ha annunciato di aver già ultimato il 70% del nuovo album. Laura Pausini e Eros Ramazzotti insieme in tv, nuova collaborazione? Ma sono tanti i fan che sperano ardentemente di poter ascoltare anche tanti duetti nel prossimo album di Laura Pausini. E chissà se la Pausini e Eros Ramazzotti dopo questo medley a Laura e Paola non si siano magari messi d'accordo per cantare insieme una nuova hit. Collaborazione in vista tra i due cantanti? Chissà, intanto i fan se lo augurano perché il mix delle loro due voci è splendido. Comunque sia, attualmente, Eros Ramazzotti è amiconos, ma non in vacanza come molti potrebbero pensare, bensì per lavoro. Difatti, il cantautore di origini romane è sbarcato in Grecia per duettare con il cantante greco Antonis Ramos. E, come molti sapranno bene, Ramazzotti è molto famoso all'estero, e soprattutto in Grecia è amatissimo e seguitissimo. Motivo per cui è spesso e volentieri là per concerti, ospitate televisive, e tanto altro. Comunque sia, per chi invece volesse vederlo cantare in Italia insieme alla Pausini, appuntamento a stasera alle 21.20 su Rai 1.